Eccoci qua. Allora, io parlerò della vista, questo regalo immenso che ci è stato donato alla nascita e che abbiamo il dovere, il diritto di conservare nel miglior modo possibile perché più noi riusciamo a conservare in maniera eccellente il nostro apparato visivo, con più riusciamo a integrarci nel mondo perché la visione è determinante nel far sì che ci si possa integrare e vivere la nostra realtà. Dunque quello che noi parleremo oggi è come siamo riusciti a curare o a risolvere determinate problematiche per una patologia che coinvolge praticamente l'apparato visivo, quindi l'occhio e che cosa è riuscito e si è riusciti a fare grazie all'innovazione tecnologica. Il problema è un problema piuttosto grande perché ogni anno 50.000 persone vengono colpite, si ammalano di questa malattia che a differenza di altre malattie difficilmente poteva essere curata precedentemente perché se noi paragoniamo praticamente l'occhio a una macchina fotografica, la parte che in questo caso si andava ad ammalare, si va ad ammalare, è la parte più importante dell'occhio che è la retina. La retina rappresenta, se dovessimo paragonare a una macchina fotografica, la pellicola e quando la pellicola è rovinata difficilmente può essere riparata. Molto più facile invece se la causa della riduzione della nostra capacità visiva è legata a un'opacità del cristallino, quindi se il cristallino si opacisa è molto più facile cambiare l'obiettivo del nostro apparato visivo, anche se, come era successo già negli anni 80, questo problema nel mettere un corpo nuovo all'interno del cristallino aveva creato non poche controverse. Ora, che cosa succede quando noi siamo ammalati o c'è un problema alla retina, c'è un problema alla macula? Il problema è che la macula serve per vedere nel dettaglio, la macula serve per poter leggere. Se la macula è praticamente ammalata, soprattutto se questo succede in entrambi gli occhi, la lettura diventa difficoltosa. Allora è come se noi guardassimo in faccia una persona e la vedessimo sfocata e al centro della faccia del viso appare una macchia nera, quindi diventa estremamente complicato riuscire a correggere una situazione particolare come questa. Allora, per riuscire a capire quello che è il sistema, il progetto, la progettualità di quello che siamo andati a creare, se noi paragonassimo il nostro apparato visivo, quindi l'occhio a una macchina fotografica, la parte anteriore, che è composta dalla corna, dall'iride e dal cristallino, potrebbe essere paragonata immediatamente al nostro obiettivo della macchina fotografica. La camera vitre, che è la parte centrale dell'occhio, quella possiamo paragonare alla camera intermedia della macchina fotografica e la retina, che è la parte più profonda dell'occhio, la possiamo, come abbiamo detto prima, paragonare alla pellicola fotografica. E quindi, se andiamo a rivedere com'è formato l'occhio, vediamo che l'occhio è formato quasi come una macchina fotografica e la macula rappresenta quella parte profonda un po' giallina che riusciamo a vedere nello schermo e che rappresenta quello che è il dettaglio della visione. Quindi tutto quello che è il dettaglio della visione viene praticamente espresso, viene visto in quell'area molto piccola giallonia che sta a fianco al nostro nervo ottico. Certamente, se è una zona molto piccola, quindi quando è lesionata, potrebbe essere un problema andarla a curare. Parlare di macula, parlare di maculopatia, è un po' una cosa non tanto semplice, perché è come se noi paragonassimo la maculopatia a un incidente. Un incidente può essere piccolo, di un'entità piccola, ma di un'entità devastante. Quindi, anche qui, in questo caso, la maculopatia può andare da una piccola lesione a una grande lesione. Quando è una piccola lesione, più o meno, magari non ci si può rendere conto che abbiamo un problema patologico che si sta sviluppando, ma quando questo problema evolve nel tempo, certamente il nostro apparato visivo incomincia a ridurre la sua capacità visiva. Quindi la macula rappresenta il target di massima visione, quindi dove si sviluppa la maggior visione quando noi guardiamo un oggetto, quando noi vogliamo andare a leggere. e quindi rappresenta anche quello che è l'entità di quello che ci permette di poter vedere anche tutti i colori. Quindi, se la macula è ammalata, naturalmente nasce il problema, nasce la maculopatia. La maculopatia che, fino a qualche anno fa, non si poteva curare, perché non c'erano i mezzi. Poi, piano piano, sono intervenuti i primi mezzi, ma comunque si risolvevano il problema, ma risolvano il problema lasciando sempre qualche altro problema legato, quindi c'erano dei pro e dei contro da tenere sempre bene in considerazione. E, per quanto riguarda la maculopatia, dobbiamo ricordare sempre che esistono vari tipi di maculopatia. Quindi esiste una maculopatia di tipo essudativo, una maculopatia di tipo secco, una maculopatia di tipo degenerativo. Per quanto riguarda il, fortunatamente, per quanto riguarda la patologia maculare di tipo essudativo, si è riusciti con alcuni farmaci a risolvere in maniera eccellente questo problema, ma rimaneva sempre il problema legato alla maculopatia di tipo atrofico, piuttosto che degenerativo. E che cosa succede quando la macula è ammalata? Allora noi vediamo sopra che abbiamo una macula che è perfetta, è un occhio eccellente, una macula straordinaria, questo del resto è un ragazzo molto giovane, mentre in basso vediamo che l'area dell'occhio contrapposto a quello sopra è un'area interessata da un'atrofia maculare. Questo purtroppo è un occhio che alla nascita, per esempio, ha avuto un'infezione ed è andato incontro a una cicatrizzazione dell'area maculare. Allora noi cosa possiamo fare? Possiamo cercare di risolvere questo problema, chiaramente non possiamo sostituire la retina, cosa che potremmo fare per esempio in una macchina fotografica, perché non possiamo sostituirla, perché non abbiamo ancora i mezzi di collegamento per la sostituzione della retina. Possiamo, se la lesione è piccola, fare un intervento chirurgico di spostamento della retina, ma quando la lesione, per esempio, è così di vasta entità, questo non è possibile eseguirlo. Allora abbiamo cercato di realizzare un sistema che ci permettesse di ingrandire le immagini e nell'eventualità, dato che questo sistema è un sistema formato da due lenti contrapposte una all'altra, eventualmente se, come abbiamo visto prima, la lesione era piuttosto grande, estesa, avessimo anche la possibilità, nello stesso momento della realizzazione del sistema, di poter deviare anche l'immagine. Certamente l'innovazione tecnologica, in questo senso, ci ha dato un grandissimo contributo, perché oggi, a differenza di ieri, si riesce a costruire un sistema ingrandente miniaturizzato e questo sistema ingrandente miniaturizzato può essere poi, una volta realizzato, introdotto nell'occhio. Certamente sentire parlare di questo può sembrare molto strano, ma se noi ritorniamo indietro negli anni, 20 anni fa, quando si è parlato di introdurre un cristallino artificiale all'interno dell'occhio, il mondo scientifico ha urlato allo scandalo, perché si diceva che effettivamente non si sarebbe mai riuscito a realizzare un cristallino e che lo stesso potesse essere introdotto all'interno dell'occhio. Ma come è successo? E oggi, invece, sentiamo che tante persone vengono operate di catalata e subito dopo l'intervento sono pronte ad uscire dall'ambulatorio chirurgico, togliere la benda che è stata messa a loro per il decorso post-operatorio e ritornare a vedere immediatamente bene. Quindi la cosa che nasce oggi, a 20 anni, 25 anni di distanza da quel primo passaggio, è lo stesso, cioè un'innovazione tecnologica straordinaria che permette a queste persone che hanno una lesione maculare di tipo atrofico nell'occhio, di poter risolvere questo o migliorare quello che è la loro capacità visiva. Dobbiamo pensare che nel momento in cui riusciamo a migliorare la capacità visiva riusciamo a migliorare anche quello che è la qualità di vita. E la qualità di vita, naturalmente, coinvolge anche tutte le persone che sono o accompagnano o sono vicine alle persone affette da degenerazione maculare o da una capacità involutiva della visione. Allora, è stato realizzato un primo progetto. Il primo progetto, come dicevamo prima, prevedeva l'impianto all'interno dell'occhio di un doppio sistema, un sistema praticamente miniaturizzato ingrandente che andava a deviare oppure a ingrandire l'immagine favorendo o facilitando la capacità visiva del paziente. Adesso, la grande, invece, innovazione tecnologica cosa ha portato? Da quel sistema si è realizzato il sistema ingrandente miniaturizzato ma che va completamente introdotto all'interno del sacco capsulare. Quindi va introdotto totalmente al posto del vecchio cristallino. Il vecchio cristallino viene rimosso, viene lasciato solamente l'involucro che avvolge la sostanza propria del cristallino e una volta che viene rimossa viene praticamente introdotto all'interno del sacco capsulare il nuovo sistema ingrandente miniaturizzato. Il sistema ingrandente miniaturizzato, come lo possiamo vedere, può essere a linea diretta oppure con la possibilità di deviare l'immagine. certamente tutto questo, prima di essere realizzato, prima di portare il paziente in sala operatoria, c'è un percorso che permette di capire quanto può essere aiutato il paziente, quanto è il grado di miglioramento che può ottenere il paziente con il sistema e se il sistema, che è un pochino leggermente più grande di un cristallino naturale, può essere introdotto all'interno dell'occhio e se possono esserci o meno delle complicanze e viene fatta, prima ancora dell'eventuale intervento chirurgico, una simulazione che permette di quantificare il grado di miglioramento della capacità visiva del paziente. Ora possiamo vedere come una volta fatto l'intervento il doppio sistema di cristallini incrociato viene introdotto nell'occhio. Ecco, vediamo, questa è la foto che ci permette di vedere come questo sistema che apparentemente sembrava impossibile da realizzare, impossibile da ottenere, grazie all'innovazione tecnologica è stato possibile introdurlo all'interno dell'occhio. È un'innovazione, giustamente come diceva prima Gerolamo, totalmente italiana. In Italia vengono quasi ogni mese chirurghi provenienti da tutto il mondo per vedere questo sistema e questa innovazione tecnologica. È un sistema per il momento di un grande successo perché anche all'ultimo congresso dell'SCRS che si è ottenuto a Milano 22 chirurghi provenienti da tutto il mondo erano ospiti nel nostro ospedale per vedere l'impianto e per collaborare a quello che è uno sviluppo internazionale del sistema a livello mondiale. Il risultato che noi vogliamo ottenere è quello di riuscire a migliorare la qualità della vita del paziente, di questi pazienti che essendo affetti da una degenerazione maculare di tipo atrofico non potrebbero trovare con il farmaco una soluzione migliorativa di quello che è il loro problema, di quello che è il loro deficit visivo, ma con un'applicazione all'interno dell'occhio di un sistema ingrandente miniaturizzato che gli permette loro di avere un ingrandimento dell'immagine e hanno la possibilità in questo caso di migliorare quella che è la loro capacità visiva. Il sistema è un sistema che una volta introdotto all'interno dell'occhio risulta invisibile perché sia l'anello esterno, sia la lente negativa e sia la lente positiva che in questo caso funge da obiettivo vengono introdotti totalmente nel sacco capsulare che rappresenta praticamente lo spazio, il contenuto del cristallino naturale e di conseguenza subito dopo l'intervento, una volta che è stato introdotto il sistema miniaturizzato ingrandente nel sacco capsulare, il paziente ha innanzitutto la possibilità di percepire subito un miglioramento visivo e soprattutto non ha il disagio di far vedere un sistema antiestetico come potrebbe essere per esempio se lo stesso sistema noi lo dovessimo applicare davanti all'occhio quindi su un occhiale perché lo stesso sistema che è miniaturizzato all'interno dell'occhio davanti all'occhio quindi in una porzione esterna risulterebbe estremamente grande, estremamente invasivo ma la grande differenza che ci sarebbe è sostanzialmente nella capacità del campo visivo perché se io lo stesso sistema lo vado a mettere all'esterno dell'occhio riduco notevolmente quello che è il campo visivo cosa che invece se lo metto all'interno dell'occhio il campo visivo addirittura viene praticamente amplificato è un'innovazione tecnologica secondo me straordinaria che darà senz'altro dei grandi sviluppi l'interesse internazionale fortunatamente è estremamente importante stiamo lavorando su questo progetto ormai con molti colleghi anche stranieri che con noi stanno condividendo questa enorme esperienza e questa grandissima innovazione tecnologica grazie mille a tutti grazie mille a tutti